Ha toccato anche la provincia di Arezzo la maxi-operazione dei carabinieri del comando di Caserta contro la cosiddetta mafia nigeriana, in particolare di un gruppo chiamato EI, un vero e proprio sodalizio criminale composto da extracomunitari, dediti, secondo le indagini, al traffico di stupefacenti. Alle prime luci dell'alba di martedì sono state arrestate in tutto 15 persone ed altre 7 sono state sottoposte all'obbligo di firma. Traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, rapina, estorsione e lesioni, capi di accusa, Caserta, Roma, Firenze, Arezzo, Brindisi e Catania, le province interessate dalla maxi-operazione. Molti degli indagati sono clandestini ma sono finiti in manette anche i due italiani e lo spaccio delle sostanze stupefacenti acquistate anche all'estero avveniva a Castelvolturno ma anche a Roma e Firenze. Parte dei proventi accumulati era poi spedita in Africa. Nel corso delle indagini sono emersi episodi raccapriccianti e dettagli sui rituali del sangue che gli affiliati erano tenuti a svolgere. Tra gli episodi più trucci emersi durante l'indagine è sicuramente quello dello sventramento di un cadavere. Si trattava di un corriere della droga morto e quindi squartato proprio per recuperare lo stupefacente che aveva ingerito e i resti dispersi nelle campagne. Grazie. 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 Grazie.